Allora la gente cantava, avevamo tutte le finestre aperte, le porte con la cricchetta e sentivi musica da tutte le finestre uscire. La vita era più in comune, diciamolo. Per esempio, sotto casa mia c'era il vinaio, allora Minghetti, quando lui arrivava l'uva dal Piemonte, era una festa per tutto il quartiere. C'erano quelli che suonavano le fisarmoniche, le chitarre, chi cantava, chi ballava e gli uomini che schiacciavano l'uva, lì, all'aperto. Tra ragazzini ci divertivamo, giocavamo al pampano, a fulmine, a chiappare, con le cannucce, qualche volta anche con le fionde, con le pietre, ma più che altro le fionde tiravamo i colombi, così tanto per divertirsi. E poi c'era qualche scalamuccia, ma niente di sanguinoso, con quelli di via Pia oppure con quelli di via Ottoria. La nostra giovenezza era giocare nei ruderi della guerra, che ci avevamo alle spalle, oppure andavamo nel Cudabè, giro per il porto. Allora lì c'era la demolizione delle barche, delle cose, c'era quelli che prendevano il ferro e c'era quelli che tenevano il legname. E allora andavamo lì e cerchavamo di rubacchiare un po' di ferro, un po' di qualcosa. E poi ce l'andavamo a vendere da regatiere e ci compravamo il castagnaccio, ci compravamo il gelatino da 15 lire, un pezzo di panno dolce, che era pane con l'uvetta, il sabibbo, quelle cose lì, che però allora sembrava il jambon, il meglio che c'era. Una cosa che io ho sempre avuto da ragazzino, quando pensavo cosa vuoi fare da grande, io dicevo voglio fare il portuale. Perché? Perché mio padre faceva il portuale, alcuni miei zii facevano i portuali e allora il mio pensiero era voglio fare il portuale. Una volta sui 14-15 anni parlavo con degli amici e allora andavamo al cinema a Moderno, scaldamente affiato. Allora di cosa succedeva? E vedeva a barinai, donne guai, questi barinai che andavano nei porti, femmine, divertimenti. Allora ci è avvenuto l'etusiasta. Ma ci facciamo il libretto di navigazione e andiamo a navigare. Allora io vado a casa, c'era mio zio che aveva fatto militare marina, e io vado a fare un libretto di navigazione, uscì, mi imborco a navigare, e mi dice, mi prende, mi porta dal balcone, mi apre la finestra e mi dice, mi asciò, cosa ti vedi? Il cielo. Mi asciò, cosa ti vedi? Ma fai con tu che sei giù a me. Poi rimanmo, cosa ti vedi tu? Il cielo. Mi asciò, cosa ti vedi? Un muo. Ecco, se ti vedi a fare un marittimo, questa è la tua vita. Lascia perdere tutti i tenecciari che ti vedi a uccidere. Quando ti vedi i porti, se ti vedi una donna, bisogna che ti paghi. Se ti fa un nescio, ti rischi qualche cutello. I tuoi amici, se sei a sciolta, se ti vedi a cucetta, lascia perdere. E così è finita. Mi sono fatto il libretto di navigazione. È stata la mia fortuna perché quando mi ha chiamato sotto le armi sono andato nell'esercito e non sono andato in marina. Invece i miei amici che ci sono fatti il libretto alla fine hanno fatto 24 mesi di marina, mentre invece io ho fatto 15 mesi di folgore, per mia fortuna. 12 giugno del 1956 io sono andato a lavorare e sono entrato veramente nella confites. Era un negozio di confezioni fatte a sua misura. C'era sartoria da uomo, sartoria da donna. Posso dire che per quegli anni lì era il negozio più importante di sapore nel settore. Io sono andato lì e avevo 12 anni. Lavoravo da Batromoto, facevo ragazzo di bottega, aiutavo a fare le vetrine, le commissioni e guadagnavo 8 mila lire al mese. Me le davano, il giorno 12 mi davano la mia busta con 8 mila lire perché avevo iniziato il 12 di giugno del 1956. E ci sono stato circa un anno e qualche mese. Poi per raccontartela com'è andato, una sera accompagnato una sartina a casa, quando siamo arrivati nel portone ci sono saltato addosso. Questa cretina per lì dove c'è stata, vabbè finisce lì, però niente, è andata a raccontarla al negozio. Così c'era sartoria da uomo, sartoria da donna, i commessi, tutti mi ridevano dietro le spalle. Io avevo 13 anni per capire, ero venuto e ero rossa come un peperoloso. Cosa ho fatto? Me ne sono andato. Me ne sono andato e sono andato a lavorare nella farmacia Farina, che allora si trovava sotto il Duomo, vicino a pompe funibili di Dal Buono. Sono andato a lavorare nella farmacia Farina, la prima settimana mi ha dato 3500 al mese, io in due settimane guadagnavo tanto come là, perché lì mi pagava a settimana. E ci sono stato fino a 16 anni, circa. Poi a 16 anni mi sono licenziato, ho fatto un po' di traversie e sono andato anche a fare una stagione, un'estate allo anno, un ragazzo di cucina. Perché avevo un mio amico che era secondo di cucina, e mi diceva, vieni, vieni, che il tedesco si muovemo per lì, andiamo per lì, e sono andato, un ragazzo di cucina. Era un bel albergo grosso, c'era un sacco di gente, eravamo, avevamo la nostra cameretta, tutto. Allora c'era l'acqua che bolliva sulla stufa, perché la pasta la facevamo precotta, poi quando comandavano la pasta, la facevamo saltare nell'acqua calda, come funziona ancora tutt'oggi. Il cuoco ci metteva i suoi condimenti e i camerieri la portavano in sala. Se non che finiamo il servizio, avevamo appuntamento con due tedesco per fare svelta. Lui usavano le sayonara, quelle che adesso le chiamano fradito, e di gomma. E io con questo affare vado per buttare la manadina, mi sono scivolato e mi sono bruciato. Faccevi che mi sono girato e mi sono bruciato la schiena. Non ho portato conseguenze, però mi ha ricoverato in ospedale. Vabbè, è finita la mia avventura negli alberghi. A che poi a dicembre sono andato al porto. Sono andato al porto, fra Tira e Mola sono riuscito a fare sette presenze. Poi non lavoravo mai, e siccome ero, si può dire, quasi capofamiglia, mi sono dovuto andare. Tramite un'ogia mi è uscito un posto di lavoro nell'Ape, che si trovava nella Valle di Valado, quella che poi è diventata la vetrofil, così, la fare così. E sono andato a lavorare là. Ero apprendista. Facevo 44 ore alla settimana, per cui lavoravo 8 ore al giorno, più 4 ore sabato mattina. Io sono entrato e sono andato come apprendista, carpentiere in ferro. Per cui, diciamo, il mio reparto si trovava al fondo, verso Santa Ermete. E lì c'era carpenteria, c'erano i saldatori, c'erano quelli che usavano la fiamma, c'era chi faceva, diciamo, i tubisti, c'erano i lebanisti, insomma, c'era un... ognuno aveva le sue emozioni. L'ambiente, come gente, niente da dire, tanto di cappello. Però, l'ambiente era un ambiente chimico. Cioè, faceva, si produceva con cime. L'acido fosforico passava attraverso i tubi. Questi tubi non avevano nessun riparo di niente. Sopra questi tubi collava l'acqua. Perché? Perché quando si bucava uno di questi tubi, l'acqua contatta con l'acido fosforico faceva una nuvola gialla, che assolutamente non bisognava respirare perché ti bruciava i polmoni. Allora, l'unica cote era che ti insegnavano, quando vedi quello, chiudi la bocca, non respirare e porta via le sue ore di corsa. Poi ci passavano latte, mezzo litro più o meno al giorno di latte e l'ambiente era un ambiente di quei tempi. L'agriciore non lavorerebbe più nessuno così. Non lavorerebbe più nessuno così. Però eravamo negli anni 60, era tutto diverso. E' per cui la gente che si levava dalle campagne, che aveva un stipendio fisso, sicuro, ci sembrava già di toccare il cielo con un dito. Perché lì erano quasi tutti dalla zona di segno, di quei cittadini c'erano, ma erano quelli che facevano lavori un po' più come il saldatore, ma quelli che lavoravano nei reparti proprio dello stabilimento dove proprio si produceva il concime. E' stata tutta gente di campagna per di inserla a comere. E beh, comunque lì ci sono state da dicembre del 61 a primavera del 63. Perché cosa è successo? Nel 62 è venuto il primo governo di centro-sinistra. Cioè i socialisti sono entrati al governo. I socialisti al governo, una delle tante cose che hanno voluto subito fare è stata quella di nazionalizzare l'energia elettrica. Allora, questa dita qui che era forte, aveva stabilimenti in tutta Italia, aveva centrali elettriche e tutto, quando il governo ha nazionalizzato l'energia elettrica per rivarsa, ha chiuso dal giorno domani un sacco di queste attività. Personalmente a noi, eravamo più di mille, mille e cento, mi sembra di ricordare, ci è arrivata tutta la lettera di licenziamento in tronco. Per cui abbiamo occupato la fabbrica. Abbiamo occupato la fabbrica e abbiamo fatto i nostri bei cortelli, le solite cose. E' durata non tanto, non sarà durata 7-8-10 giorni, non mi ricordo, perché avevo 17-18 anni, pensavo alle ragazzine. E dopo quello... Cosa è successo? La fabbrica ha fatto come dei licenziamenti acevolati. Cioè chi se la dava, prendeva un premio. Era una bella somma, ma io allora guadagnavo mediamente sui 44 mila lire al mese. Per cui mi sono trovato per dire avere 3, 4, 5 mensilità, capisci, di regalo. E io ve ne sono andato e cosa ho fatto? Ho fatto una domanda e sono andato da campanella all'ascenso. Sono andato da campanella all'ascenso ma hanno assunto subito. Era lì dalla campanassa dove adesso c'è quella ditta che fa i motoscaffi, le barche, cosa fa. E lì facevano tutte le riparazioni navali, trasformavano ad esempio la petroliera, la facevano diventare da merce varia e così via. E più facevano riparazioni. E facevano riparazioni anche a bordo le navi che erano in porto. Allora io sono andato lì, mi hanno assunto e dal 63 avevo 19 anni come apprendista. Dopo pochi mesi però gli serviva uno da inserire nella squadra che andavano a fare lavori di riparazione a bordo dentro il porto. e siccome come apprendista non potevo andare mi hanno passato un'operaio qualificato un'operaio comune quasi qualificato e mi hanno messo nella squadra per andare a fare le riparazioni a bordo. Nel frattempo mio zio aveva aperto un'officina di carpenteria proprio lì al porto in via Chiodo giù di lì. E allora mi aveva già detto venio come io ti ammè ne ho chi è là e sono andato con mio zio a lavorare. La ditta si chiamava ferotecnica ferotecnica e lui aveva preso diversi lavori faceva anche scalacchiogia faceva anche però cosa era forte che ci aveva l'appalto dentro l'ILVA per cui già un gruppo di lavoratori era a lavorare dentro l'ILVA e poi un altro appalto ce l'aveva nella Stoppani di Arenzano quella che adesso la vogliono risanare tutta. Allora il fatto sta che sono andato a lavorare anche dentro l'ILVA allora c'era ancora le fonderie e poi sono andato anche a lavorare dentro la Stoppani e questo è durato fino a gennaio del 65 che sono partito a militare quando sono tornato a militare che è stato marzo del 66 mio zio aveva già chiuso i pateti la dita era già fallita perché mio zio era un uomo di mondo se aveva 1000 spendeva 2000 per cui aveva già fallita allora prima mi sono trovato senza lavoro senza niente sono andato a lavorare a fare i mercati di frutta e verdura ho fatto i mercati di frutta e verdura 4 anni se non che del 70 è uscito il bando al porto allora ho fatto sto bando e siamo entrati a lavorare il primo agosto del 1970 e siamo entrati in 110 occasionali di un certo di un certo di un certo seguità di un certo quindi a la